... Bomba Day contro la rovescia e gli sgoccioli per la bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto ad Ancona. Oggi si è riunito il COC, attivi numeri da usare il 20 per le esigenze dei cittadini. Palpeggio alle pazienti durante le visite, arrestato cardiologo dell'alta Valle del Foglia, tra le vittime anche una ragazzina di 12 anni. Arrestata una donna bulgara di 45 anni, coinvolta nella rapina che ha portato alla morte di Maria Biancucci, la 79enne trovata morta in casa con mani e piedi legati lo scorso 11 marzo. Rigopiano, due anni della tragedia a Farindola, si ricordano le 29 vittime della valanga, tra cui i sei marchigiani, i familiari, decisi a portare avanti la battaglia per la verità e per una legge Rigopiano. Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Come sempre vi ricordo che siamo in onda e streaming anche sul nostro portale www.etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook apriamo con gli ultimi aggiornamenti che riguardano il Bomba Day. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per domenica 20 gennaio, quando ci saranno le operazioni di bonifica per l'ordigno bellico rinvenuto ad Ancona. Linda Cittadini. La giornata di domenica nella zona di Ancona sarà l'insegna di un cielo parzialmente nuvoloso o al più nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Da segnalare soltanto in serata la possibilità di qualche precipitazione di debole intensità che rappresenta un po' l'anticipo del peggioramento che poi ci sarà nella giornata di lunedì. Il meteo non desta preoccupazioni dunque per il Bomba Day il 20 gennaio, la domenica più lunga per Ancona. Per la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto lo scorso ottobre lungo i vecchi binari della ferrovia, sarà necessario evacuare quattro quartieri del capoluogo regionale per un totale di 12.000 persone. Oggi nuova riunione alla prefettura di Ancona che coordina le operazioni in campo. Il comune di Ancona con il centro operativo comunale presso la sede della pulizia municipale che sarà attivo dalle 4.30 per dare assistenza a chi lascerà a casa alle prime ore del mattino a disposizione autobus che porteranno le persone ai centri di accoglienza. Le operazioni di evacuazione inizieranno alle 5 e si concluderanno alle 8 quando tutta l'area diventerà off-limits per tutti. Dalle 7 non sarà più accessibile dall'esterno. Attenzione dunque anche alla viabilità che subirà modifiche per chi viene da fuori città. All'interno della zona rossa resteranno le forze dell'ordine a presidiare l'area e ovviamente gli artificieri del genio ferroviari dell'esercito. L'ordigno da 250 libri dopo un primo disinnesco in loco verrà fatto saltare nella cava di via della barchetta Iesi, per cui dalle 12 scatterà il piano di sicurezza che investirà anche il comune Iesino. Per un raggio di 400 metri la zona dovrà essere evacuata e sarà fatto di vieta a chiunque di entrarvi. Si tratta di un'area in aperta campagna da evacuare. C'è solo un'abitazione. Entro le 19 dovrebbe essere possibile il rientro nelle proprie abitazioni ad Ancona a operazione effettuata. Tra le raccomandazioni quella di non lasciare le auto parcheggiate nel raggio degli 800 metri di zona rossa e per garantire anche l'igiene in città di esporre i rifiuti entrano in oltre le 13 di sabato perché in tutta la città domenica sarà sospeso il servizio fa sapere Ancona Ambiente. Vi ricordiamo che per il Bomba Day l'appuntamento è anche con la diretta di ETV a partire dalle 7 sul canale 12 e 112 sull'app di Radio Center Music e in streaming su sito internet e pagina Facebook. Passiamo ora alla cronaca. Palpeggiava donne e ragazzine minori mentre le visitava nel suo ambulatorio. È stato arrestato dai carabinieri di Urbino e posto agli arresti domiciliari. Un noto cardiologo che operava in due abulatori privati dell'Alta Valle del Foglia. L'uomo avrebbe approfittato delle visite in ambulatorio ed in particolare dell'auscultazione del polso femorale che si trova nella zona dell'inguine per allungare le mani sulle pazienti tra cui anche minorenne, in particolare una bimba di 12 anni. L'accusa per lui è di violenza sessuale aggravata. Terzo arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Maria Biancucci la donna di 79 anni trovata senza vita con mani e piedi legati nella sua casa a Alteta di Montegiorgio l'11 marzo 2018. Vediamo. Avrebbe fatto da palo nella rapina finita in tragedia la donna di nazionalità bulgara di 45 anni arrestata a mercoledì scorso dai carabinieri del comando di Ascoli Piceni in collaborazione con i colleghi di fermo. Scatta il terzo arresto dunque nell'ambito delle indagini sulla morte di Maria Biancucci. la 79enne trovata senza vita dal figlio con le mani e i piedi legati sul letto di casa in frazione Alteta di Montegiorgio nel Fermano l'11 marzo del 2018. Secondo la procura di fermo la donna arrestata da tempo residente in zona dove lavora assaltuariamente come badante avrebbe fatto da palo agli altri due soggetti arrestati nei mesi scorsi. Si tratta del Fermano Dante Longo bloccato a settembre e di un Ascolano finito in carcere a dicembre 2018. La badante è stata trasferita nel carcere femminile di Castrogno a Teramo e in mattinata è stata sottoposta a un interrogatorio di garanzia. I tre arrestati sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Ci spostiamo adesso nel San Benedettese per un macabro ritrovamento alla foccia del torrente Ragno un uomo ieri pomeriggio ha chiamato il 113 per segnalare la presenza di una scarpa di running con dentro i resti di un piede la scoperta nello stesso punto in cui la mattina del 18 novembre scorso erano stati rinvenuti i resti del corpo di una donna non ancora identificata a cui mancavano diversi arti tra cui appunto un piede che potrebbe essere quello trovato ieri pomeriggio anche se la dimensione della scarpa un numero 44 farebbe più pensare al fatto che possa appartenere ad un uomo. Le indagini ovviamente stanno proseguendo per capire se si tratta di una stessa persona o si possa trattarsi di due corpi diversi sul posto per le indagini gli agenti del commissariato insieme ai militari della Capitaneria di Porto di San Benedetto che hanno preso i consegni a i resti umani e li hanno consegnati agli operatori dell'Azure. Nascondeva quasi 200 grammi di hashish nella cabina armadio arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni celibe e artigiano. Il giovane è stato arrestato nel corso di alcune perquisizioni domiciliari effettuate dai carabinieri della Compagnia di Osimo con l'ausilio del cane Anita del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro presso alcune abitazioni della cittadina Castelfi d'Ardenze. Ci spostiamo a Marzocca dove i vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a 1.20 circa in via Garibaldi 16 per domare l'incendio divampato in un negozio di prodotti ortofrutticoli dismesso da metà dicembre a lanciare l'allarme un passante che ha notato le fiamme stando alle ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Senigallia che sono intervenuti sul posto e gnoti si sono introdotti nottetempo nel locale e hanno ammassato carte e cartoni all'interno appiccando le fiamme i danni sono minimi limitati all'annerimento delle pareti e ora si stanno vaiando le telecamere della zona indagando per capire se si sia tartato di un atto vandalico oppure se l'incendio doloso sia conseguenza di qualche attrito a due anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui persero la vita 29 persone tra cui 6 marchigiani si è svolta oggi a Farindola la cerimonia che ricorda le vittime della valanga la presenza delle istituzioni e dei due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo i saluti e qualche momento di raccoglimento e preghiera nei pressi del totem dell'hotel alle 11.30 si è svolta la messa nella chiesa del paese e alle 15.30 un altro momento di incontro e commemorazione al Palasport di Penne i familiari si sono riuniti in qualche minuto di raccoglimento decisi a portare avanti la battaglia per arrivare alla verità e ottenere una legge Rigopiano che prenda spunto dalla legge Viareggio il provvedimento relativo agli indennizi per i parenti delle 32 vittime della strage alla stazione ferroviaria Controlli questa mattina nelle 6 di Muccia al centro delle polemiche per la muffa ci racconta tutto Roberto Propersi Ancora un sopralluogo nelle casette di Muccia questa volta il CNS ha accompagnato tre ingegneri del Politecnico di Milano ad analizzare l'aria interna ed esterna nelle SAE un controllo a campione su due SAE con problemi e già aggiustate due SAE con problemi e ancora da fare i lavori e due SAE senza problemi e quindi con uno strumento hanno analizzato le particelle che erano dentro alla SAE volendo sapere anche chi vi abitava quindi noi siamo in tre più un animale e hanno voluto vedere la salubrità di questa SAE dove chiaramente sono stati fatti i lavori per la pavimentazione torneranno la settimana prossima a fare delle analisi un pochino più particolareggiate questo era un preliminare poi successivamente si faranno delle analisi un pochino più specifiche i numeri sono impietosi però soprattutto nell'area di Pian di Giove con più di 36 su 42 danneggiate e i rilievi secondo gli abitanti un po' troppo tardivi noi l'avevamo chiesto prima quando è venuto fuori il problema speriamo che questa situazione possa trovare una soluzione e soprattutto mi auguro che queste persone esterne a questo ambiente possano un attimino oggettivamente valutare quello che è stato fatto quello che dovrà essere fatto e chi ha sbagliato comunque deve pagare Antonella chiude ringraziando per il sostegno e la vicinanza il comitato terremoto centro Italia nella figura di Francesco Pastorella e Flavia Giombetti in qualsiasi situazione ci siamo trovati loro ci sono stati sempre vicini e comunque sono stati sempre dalla nostra parte hanno dato fiducia soprattutto a quello che abbiamo detto a quello che abbiamo constatato e ci hanno dato le loro capacità le loro spalle su cui poter contare quindi un ringraziamento va soprattutto a loro oggi un sit-in si è svolto davanti all'ufficio scolastico regionale promosso dal movimento studentesco di protesta per gli esami di stato 2019 insieme all'associazione studentesca Albatros rete degli studenti medi Ancona e la rete degli studenti medi Marche il sit-in fanno sapere gli studenti vuole rendere note alle istituzioni locali e regionali le problematiche relative alle nuove modalità che riguarderanno l'esame di maturità previsto per l'anno scolastico corrente una delegazione di studenti è stata poi ricevuta dall'ufficio scolastico regionale che ha condiviso le problematiche e le lamentele esposte inoltre è stato preso l'impegno di confrontarsi con docenti e commissioni di riportare le rivendicazioni degli studenti direttamente al ministero dell'istruzione Parco del Conero dopo il commissariamento arriva la proposta per la composizione del nuovo direttivo parla l'ex presidente Stacchiotti ci sono ancora delle ipotesi rispetto a come sarà composto questo nuovo direttivo il parco appunto ha bisogno di persone che hanno competenza hanno passione disponibilità impegno a parlare l'ex presidente del parco del Conero Gilberto Stacchiotti l'ente ora tende una svolta dopo mesi di stalle il commissariamento con la proposta di legge che riforma il direttive che dovrebbe approdare in consiglio regionale per il voto finale nel direttivo secondo la proposta i rappresentanti di Ancona Sirollo Numane e Camerano i comuni che ricadono nel parco un rappresentante del comparto agricolo uno degli operatori turistici uno per le associazioni ambientaliste più il presidente che dovrebbe essere nominato dall'aggiunta regionale il commissariamento è stata una scelta tutta politica che in qualche modo ha sospeso la vita del parco diciamo normale la riforma che avrebbe dovuto interessare tutto il sistema delle aree protette dei parchi in realtà come unico impatto ha avuto quella del commissariamento del solo parco del Conero stanno venendo fuori i motivi veri cioè questi dissidi politici tra visioni contrapposte di chi vorrebbe il parco in qualche modo solo ancorato alla visione dei comuni invece credo molto più ragionevolmente vuole una gestione dove siano il più possibile rappresentati i mondi diversi che fanno l'economia e la cultura e il valore di questo territorio quindi dall'agricoltura al turismo la stessa università ecco mi spiace per esempio che sia caduta la possibilità insomma per la provincia di continuare a dare un proprio rappresentante e adesso lei? Allora io in questo momento sono amico del parco nella mia presidenza la mancanza di fondi ci aveva portato a inventarci tante cose compresa questa cioè di raccogliere persone che attraverso il volontariato potessero collaborare a diversi progetti del parco del Conero manutenzione dei sentieri progetti di monitoraggio delle specie fonistiche e anche continuando a informare anche grazie al successo del mio libro Conero Segreto che insomma è stata un po' un'ontologia per far conoscere sempre più questo territorio la bellezza la ricchezza la varietà E sul problema dei selvatici in particolare dei cinghiali? Anche i fatti come quelli che sono accaduti sull'autostrada indicano che il problema non è evidentemente solo del parco del Cono né tantomeno solo dei parchi è un problema nazionale forse anche di più e paghiamo lo scotto perché questi animali sono stati introdotti a scopo venatorio e questo era il nostro ultimo servizio prima di salutarvi vi ricordo che l'appuntamento questa sera alle 20.55 è con Focus Lavoro i temi trattati saranno il rinnovo dei contratti per quanto riguarda l'ufficio speciale di ricostruzione Marche e ancora migranti cosa cambia con il decreto sicurezza a seguire vi ricordo dopo di me torna la rubrica Marche Flash e poi le news sportive con LTG Sport io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione arrivederci